È un diritto e per certi aspetti un dovere fare ricorso alla Corte Costituzionale quando si intendono lese determinate prerogative che la Costituzione attribuisce alla Regione. Con il decreto sicurezza pesanti le conseguenze sulle spalle dei sindaci, così 20 primi cittadini del territorio aretino spiegano in un documento il loro appoggio alla Regione Toscana che ha annunciato ricorso alla Corte Costituzionale contro il decreto sicurezza. Sicuramente, si legge nel documento, il decreto appesantirà la situazione aumentando il numero degli irregolari e inevitabilmente sarà sempre più complicato per le macchine amministrative non solo comunali. Siamo profondamente preoccupati per il fatto che non sia stato valutato e accolto nonostante la posizione della Commissione Immigrazione del Lanci il parere dei tanti sindaci che sono le vere sentinelle del territorio. Eliminando la protezione umanitaria si getta in mezzo alla strada migliaia di persone, decine di migliaia in tutto il paese, migliaia in Toscana e praticamente diventa impossibile garantire un nucleo di diritti essenziali che per Costituzione queste persone hanno indipendentemente dall'essere o non essere cittadini. Facciamo ricorso, vedo che molti ci stanno seguendo e poi la Corte Costituzionale chiarirà e si pronuncerà. I sindaci che sono su questa posizione sono quelli di Bucine, Castiglionfibocchi, Cavriglia, Castelfocognano, Castelfranco Pian di Scocchi, Tignano, Civitella in Valdichiana, Cortona, Foiano, Pergine, La Terina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano, Monte San Zavino, Monte Mignaio, Poppi, San Giovanni, Valdarno, Sestino, Talla e Teronova Bracciolini.